Honda HR-V benzina con cambio automatico, allestimento executive navi con tutti i sistemi ADAS di guida assistita, il tetto apribile panoramico, fari fendinebbia e fari full LED, cerchi in lega da 18 pollici, sistema keyless apertura e chiusura della vettura semplicemente tenendo le chiavi in tasca, un bagagliaio enorme tenendo presente la categoria della vettura e nettamente superiore alle sue concorrenti, retrocamera, sensori di parcheggio posteriori e anteriori, vetri posteriori oscurati, antenna a pinna, tetto panoramico in vetro apribile, l'interno è da favola, misto pelle e tessuto, guardate che bello questo pannello porta, sedili avvolgenti sportivi e il design interno con il tunnel centrale forse dal design più bello di questi segmenti. Tutti i comandi, sia degli specchietti anche richiudibili elettricamente che dei vetri elettrici a portata di mano, sedili di guida e passeggero regolabili in altezza, sistema lane assist, controllo sensori parcheggio, cambio al volante, tutti i sistemi di controllo della vettura e gestione comodamente serviti sul volante, sistema multimediale con navigatore satellitare, retrocamera, climatizzatore automatico B-zone e regolazione del riscaldamento dei sedili anteriori. molto intuitivo il sistema multimediale, questo è il comando dell'accensione, specchietto interno fotocromatico soscura automaticamente a seconda della luce proiettata dai fanali posteriori, tutti i comandi del tetto apribile, sensore luci per l'accensione automatica e spegnimento e volante in pelle. Molto sportiva questa linea anche degli interni come dal nuovo corso del marchio giapponese di Honda. E poi questa che secondo noi è un'opera d'arte, il tunnel centrale, un design fantastico dove trova alloggiamento anche la cloche del cambio automatico. Guardate questi particolari, confrontateli con auto della concorrenza, farete le vostre somme da soli. Ripilogando contattateci così siete sicuri che la vettura sia ancora disponibile per la vendita. È una vettura nuova ancora da immatricolare, già nuovo modello ed è fantastica. Siamo a totale disposizione per una prova su strada perché è veramente una nuova frontiera della guida. Vi aspettiamo!